Possiamo dire che la partita che giocherete la prossima settimana contro l'Arsenal in qualche modo ha influito? Ce l'avete nella testa già da oggi vista l'importanza che ha? No, no, sicuramente no. Non lo so che cosa è successo ma è mancata applicazione, concentrazione e non può succedere questo a noi perché siamo una grande squadra e dobbiamo essere sempre concentrati e non perdere punti così. Domenica si vedeva a Roma che la squadra sta bene, poi oggi come ho detto prima ci sono mancate un paio di cose e abbiamo perso ma sicuramente da domani lavorerò un duro per essere pronti prima per la partita con Genoa e poi per la partita con l'Arsenal. Grazie a tutti.